Le rassicurazioni che arrivano dall'amministratore delegato della Shell non ci tranquillizzano, poiché è in atto una nuova ondata di ricerche, finalizzata a nuove estrazioni petrolifere dal sottosuolo Lucano. Con queste parole, Gianni Leggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha motivato la presentazione di una mozione relativa al permesso di ricerche di Monte Cavallo. Con il documento, si chiede al Governo regionale di esprimere tutta la contrarietà della Regione Basilicata alla concessione di nuovi permessi di ricerche di idrocarburi sul territorio regionale e di attivare gli uffici regionali per presentare le necessarie osservazioni entro la data del 25 febbraio 2015. Le azioni messe in campo dalla Shell, aggiunto Leggeri, sono finalizzate alla ricerca di nuovi giocimenti petroliferi da prosciugare, ancora una volta, nel territorio lucano e pertanto le si chiede di desistere da tali progetti. Abbiamo il dovere di lottare i compatti uniti, ha concluso, per difendere i cittadini lucani e i veri interessi della Regione, continuando ad alzare la voce per contrastare tale pericolo. Grazie per la visione!